Ciao Vare The Week, questa sera fuori porta Riccione, vi portiamo la notte rosa dovete seguirci nei prossimi giorni, ora andiamo Non filmare è sempre pari, perché non è sempre il caso di filmare presentiamo con Francesco che ci ha salvato la serata ce l'ha salvata la serata ci ha salvato la serata consigli basilari consigli basilari domandina Riccione d'estate aggettivo aggettivo Francesco non c'è aggettivo i 3 più, le 3 X c'è di tutto c'è di tutto non dico altro tipo manicomio 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 Palad ordine di Riccione in questo momento tanta energia da spendere per il resto intorno ce n'è di che cosa, la parola d'ordine eh? diciamo ragazze ragazze Riccione by night notte rosa Vare The Week mi sa dopo Noi adesso vi porteremo con immagini qui. Quanto lavoro c'è? Tantissimo. Tantissimo, va bene. Piacere Mario. In poche parole, cos'è per voi la notte rosa di Riccione? Rettimento, buonea, paura. Paura, quindi la parola d'ordine dell'estate. Rettimento, stare insieme, scherzare, divertisse. Scherzare. Domanda seria. Lato negativo che puoi trovare. L'unica cosa, l'importante è che chi si mette la guida. Vado a fare intervista. Saluta Mario The Week. Grazie mille. Ciao da voi. Ciao da voi. Ciao da voi. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Cosa ci vuoi dire di questa serata? Grazie mille. Troppo bella. Troppo bella. Troppo bella. Come sempre. Salutiamo insieme Vale The Week. Sì. Ciao Vale The Week. Ciao. Ciao Vale The Week. Ciao Vale The Week. Grazie a tutti